La mette in mezzo, rimorchio Dorante, colpisce male, arriva Pompetti Con il piattone, la mette nell'angolino, raddoppio Inter Va il cross con il mancino, secondo palo, è un bel pallone ed è un grandissimo gol A Paghini a farmi un movimento a destra che almeno mi svuoti un po' l'area, almeno di un paio di elementi Va centralmente Pompetti ed eccolo qui il gol dell'Inter Pompetti che osserva e studia i movimenti dentro l'area di rigore, va Pompetti teso sul secondo palo I tre difensori centrali dell'Inter, va Pompetti e la palla in rete, ha colpito Parti l'angolo, in mezzo colpa Inter, sei senza sedo, ripassa in vantaggio Parti il cross di Pompetti, secondo palo Grassini, solo al volo Sul secondo palo Rizzolo ha messo dentro Rivediamo ancora, schirò con Pompetti ancora una volta dal piede con il radar di Pompetti Male qui i cardinali Conclusione intercettata da Van den Einden, palla che si impenna, prova a saltare Marcucci Ancora Marcucci a lottare con Pompetti, si gira bene però è la regista dell'Inter Poi è Pezzella che va con... Cleonise prova a venire centralmente, arriva bene sul pallone Pompetti Lo arpiona, gira attorno alla sfera e va in verticale da Sassan Per Antube, entra dall'altra parte, prova il Napoli a ripartire O meglio l'Inter... Colta ancora dall'Inter, Pompetti evita il ritorno di Rauti Lancio di Pompetti per Colidio che controlla, aspetta l'arrivo di un compagnolo Grassini all'indietro Ora il lancio di Pompetti Ancora la conclusione di Adorante Rizzo, ancora per Pompetti Lancio lungo in avanti per Adorante che taglia le spalle di Caleva Adorante, Adorante, Adorante Adorante, 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 Adorante... Adorante, 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 Adorante... Adorante, Adorante, Adorante... Adorante, Adorante, Adorante... Adorante, Adorante...